poi seconda domanda allora come fare a tenere un tono emozionale alto continuativamente questa è un'altra domanda veramente molto 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 importante perché capita sovente chiaramente che rimanendo in una posizione seduta anche sempre molto concentrati nello studio il nostro livello di energia tendenzialmente si abbassa quindi abbiamo bisogno sicuramente ancora di più rispetto a quando siamo continuamente in movimento cosa che già di per sé aiutano a rimanere più energici più attivi abbiamo bisogno di tenere sempre molto alto il nostro tono emozionale anzi potrei proprio dire che il nostro capitale più grande nella vita è il nostro tono emozionale cioè l'energia vitale che abbiamo dentro tutti quanti da bambini nasciamo con un livello di tono emozionale pazzesco ogni volta però che ci succede qualcosa di negativo è come se questo 100 per cento di positività si trasformasse in un 100 per cento di negatività se vedi i bambini in effetti quando sono felici sono veramente entusiasti e invece quando sono tristi sono totalmente disperati perché è così grande la loro energia vitale la loro energia il loro tono emozionale positivo che quando diventa totalmente negativo veramente sembra che sia successa la cosa più devastante dell'universo poi che cos'è che succede che dopo che hai passato un po di tempo in quel tono emozionale negativo cominci a riprenderti e piano piano la tua energia dall'essere totalmente negativa ritorna essere totalmente positiva tranne per una piccolissima percentuale che resta diciamo un nel nel recipiente del tono emozionale negativo e significa quindi che ogni volta che nella vita ti succede qualcosa è come se perdessi una gocciolina della tua iniziale energia vitale è molto pericoloso chiaramente arrivare al punto in cui tua energia diciamo emozionale positiva viene pareggiata dalla quantità di energia emozionale negativa perché lì cominci proprio a scavarti una specie di una vera e propria fossa quindi mai arrivare a quel punto bisogna assolutamente imparare nella vita ad alzare il tono emotivo e a riprendere quella piccola parte di emozioni negative in cui si sono trasformati certi episodi della nostra vita e riportarli nel tono emozionale più alto allora com'è che si fa qualche piccola strategia molto molto concreta allora la prima cosa importantissima è la fisicità quindi il fatto di allenarsi e di mangiare in maniera sana per esempio da al nostro corpo non l'energia emozionale ma l'energia diciamo quella proprio vitale insomma per far funzionare bene gli organi e il cervello in particolare quindi la prima cosa da fare è chiaramente trattare bene il proprio corpo lo sappiamo tutti che se mettiamo della spazzatura nel nostro corpo chiaramente non possiamo pretendere se non che uscirà qualcosa di peggiore e quindi trattarsi bene a livello fisico sicuramente aiuta già a migliorare proprio tono emozionale positivo la seconda cosa quindi se abbiamo fatto per il corpo lo dobbiamo fare anche per la mente che cosa vuol dire quindi mettere delle cose buone nella nostra mente per esempio leggere dei libri di formazione guardare dei video motivazionali e ancora di più curare quello che è il nostro dialogo interiore c'è quello che noi ci diciamo non so chiaramente quanto tu ne sia consapevole però ovviamente noi parliamo costantemente con noi stessi ci facciamo domande e ci diamo risposte naturalmente dalla qualità della nostra comunicazione dipende anche la qualità delle nostre emozioni se sei sempre focalizzato sulle cose negative naturalmente sarà più facile che il tuo tono emozionale scenda se invece ti focalizzi sulle opportunità su quello che puoi imparare sulle sfide che la vita ti mette davanti ecco che allora è più facile trovare dentro la carica insomma praticamente a seconda di come tu parli con te stesso puoi alzare o abbassare il tuo tono emozionale perciò fondamentalmente visto che stiamo parlando di qualcosa che ti aiuta a creare delle nuove delle sane abitudini devi abituarti a far attenzione al tuo dialogo interno uno strumento molto simpatico e semplice è quello di farsi delle domande per esempio ogni mattina ogni sera puoi farti delle domande rispetto a per cosa sei grato per che cosa puoi provare entusiasmo nella tua vita per che cosa sei felice e naturalmente abituandoti a focalizzare i tuoi pensieri sulle cose che fanno bene mano a mano sentirai di diventare sempre più abile nel tenere il tono emozionale alto in ultimo ti do un suggerimento che dal mio punto di vista della mia vita poi è stata in realtà la vera chiave di volta ed è stato quello di prendermi cura del mio ambiente il mio ambiente è innanzitutto quindi quello che c'è dentro la mia testa quello che creo insieme alla mia famiglia e poi l'ambiente sociale cioè le persone che frequenti perché lo sappiamo tutti quanti che fondamentalmente i nostri risultati in qualche modo dipendono anche dai risultati che ci mostrano le persone che noi più spesso frequentiamo significa che se stai con dei degli amici dei compagni di studi per i quali è normalissimo dare tutti gli esami prendere voti molto alti sarà più facile che tu chieda a te stesso la stessa cosa esattamente come se frequenti un gruppo di perdigiorno per te dare pochi esami e magari non passarli diventa una cosa abbastanza normale è accettabile ricordati che noi otteniamo nella vita esattamente ciò che tolleriamo e se tolleriamo di passare il nostro tempo con delle persone che per noi non sono molto motivanti dobbiamo chiaramente abbiamo dei vantaggi che è quello comunque di sentirci probabilmente più facilmente a nostro agio ma abbiamo anche il grande svantaggio in realtà di perdere l'opportunità di avere degli esempi dei mentori quindi quello che io ti consiglio è di prenderti veramente cura di tutti gli ambienti della tua vita da quello nella tua testa quello della tua famiglia a quello delle persone che frequenti uno degli strumenti che per me ha più fatto la differenza nella vita è stato frequentare dei gruppi dove si parlava costantemente di motivazione, di atteggiamento, di determinazione di come ottenere risultati, di come ottenere dei grandi obiettivi quella che noi oggi proponiamo come la Soft Skills Academy credo che sia veramente un'opportunità grandissima perché lì hai proprio un mentore che è l'istruttore che diciamo che ti insegna delle cose che fanno veramente la differenza nella tua vita che è veramente complesso andarsi a trovare al di fuori di un contesto come quello della Soft Skills Academy e poi hai anche un team, un gruppo di persone che diventa il tuo gruppo di pari che sono persone alle quali normalmente se tu riveli il sogno che hai nella vita invece di trovarti chi ti dice vabbè ma dai ma cosa devi fare ma lascia perdere e demotivarti ti dicono cazzo ma il tuo veramente è un sogno fantastico, mi hai ispirato, voglio anch'io avere un sogno così grande e trovi quindi gente che punta qui in alto, gente che ha degli obiettivi straordinari, gente per i quali gente per la quale è obiettivamente normale ottenere risultati che invece per la maggior parte delle persone sono qualcosa di assolutamente straordinario quindi cura bene l'ambiente più stai nell'ambiente della Soft Skills Academy più sono sicuro che diventerà automatico per te tenere un tono emozionale alto questo secondo me è il consiglio pratico più importante che vi posso dare grazie a tutti grazie a tutti